Allora, un graditissimo ritorno in Toscana in cucina. Cosa ci racconterai stasera? Sono affezionato io. Questa sera sono sempre, diciamo, perché ho girato un altro film, l'altra volta era per un film girato lontano dalla Toscana, dall'Inosa. Quest'anno invece, e questa volta invece, un film girato proprio mantenendo proprio la Toscana dentro. Sono qui appunto insieme a Luca Calvani, che nel film interpretiamo due fratelli, due fratelli completamente diversi. Un po' ci rispecchia, siamo due e abbiamo fatto due percorsi totalmente diversi, perché io in realtà sono stato molto legato al territorio e mi distacco difficilmente da qui. Invece lui, fin da giovane, insomma, ha girato il mondo, è andato in America, dove appunto ha fatto tante cose. Perciò nel film un po', diciamo, un po'. Si racconta di due fratelli diversi, che magari hanno avuto due percorsi diversi e un po' ci rispecchia, ma insomma, il film è molto divertente. Come si chiama? Quando lo potremo vedere? Allora, si intitola Il Cacio e le Pere, ora è in post-produzione, è in montaggio e io penso che ci voglia un altro po' di tempo e spero che in autunno si possa vedere in sala cinematografia. Sono contento perché praticamente questo film è girato in Toscana, da Fratelli Toscani, in una delle protagoniste, appunto, a parte noi due siamo protagonisti, una protagonista è la Toscana, la Toscanità, tutti i suoi paesaggi, tutti i suoi angolini più nascosti ma più belli, perciò si vedrà bene bene la Toscana. Grazie.